Il nostro contributo della casa di Clarenetto, Cez, del Consiglio di Milonia, e vi presento Enrico Redriguez, la Clarenetto, Ciccio Giacalone, la Gitarra, Daniela De Marroia Corro, I brani sono due, un bench, un string, un'unico smoke e un uccello qui, che è un'unica Un numero due numero due Un, 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 due... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti